E potrei raccontarvi la storia della mia vita, però passiamo all'acquario. Passiamo all'acquario che è meglio, anche perché l'acquario vivrà una giornata tutto sommato positiva, no? Però, occhio alle spese, perché questa è una luna che vi fa perdere denaro, d'accordo? Diciamo che lo impiegate soprattutto per auto, come dire, compiacervi, no? In che senso? C'è una cosa che vi piace, un gadget tecnologico, o lo volete comprare, lo volete acquistare, ecco, questa è la classica giornata che mettete mano al portafoglio, ma anche acquistare un nuovo abito per le donne, ma non solo, per andare dal parrucchiere, per farvi belle, per farti bello, anche Pasquale, andare dal barbiere, ecco, la classica giornata in cui non esiterete a spendere denaro per gratificarvi, ed è anche giusto farlo ogni tanto. Però è chiaro che magari qualche euro in più lo spenderete, è una giornata interessante anche e soprattutto per l'amore, questa è una luna molto sensuale.